musica dove ci fate a pescare oggi? guarda oggi proporrei la Gaia se vediamo l'ubicazione dell'hotel la Gaia è uno dei fiumi più vicini che abbiamo nelle immediate vicinanze sono circa 14 km quindi è qua vicino? sì è vicino mentre domani ci proietteremo nella riserva più lontana che abbiamo che è la Drava che sono 14 km a nord dove la prevalenza di pesce è timolo mentre la Gaia è più trotefario e qualche timolo abbiamo le riserve dove c'è la sorgiva la Gaia e la Mer dove avete provato a pescare i miei questo quindi è tutto un percorso di pesca che gira attorno alla struttura dell'hotel è più importante è solo per il nostrorando mi piace direttamente è più importante lo è più importante Grazie a tutti. Grazie a tutti.